Certo che Nintendo è proprio bravo a sganciare i Direct Nei giorni in cui devo stare in Vestaglia Chissà che cosa vedremo nel Direct di oggi Metroid Prime Ah no è uscito quello, non posso più farlo Nintendo, forse è arrivato il momento di dare giustizia a Metroid Other M Giusto? Potete rimasterizzarlo con controlli migliori, per favore Scherzi a parte, siamo nell'ultimo Direct Del film di Super Mario Il sequel non è andato come mi aspettavo Ho visto il primo che ha fatto al momento Siede a 600 e passa views Come fai? Sarà il video che ho visto nel mio canale Sono io che guardo un film di Super Mario a trailer per 10 minuti E poi mi hai sbattuto il copyright Ok, dai sparace il film dell'anno Ciao Ciao Il Mario Day È il 9 marzo Sei anni? Post-produzione, grandissimi Heccoli It's exciting to be here with you all to celebrate the Mario Brothers Don't forget Luigi is a Mario Brothers too So don't be afraid to celebrate the Green Man if you choose to I really appreciate you saying that I really appreciate you saying that Yeah, yeah And if you choose to celebrate Donkey Kong that is also acceptable Or Toad Yeah, no, it's Mario Day not DK Day Come on Bowser Day, it's awesome Come on, Bowser Day, it's awesome Well, well, everyone is calm Here is the Mario Day of the game Let's go to the Mario Day of the game Oh, fresh meat for the grinder Uno sfavillotto There's gotta be a way out of here There's no escape The only hope is the sweet relief of death Whoa Oh, you've got to be kidding me My army Kupas Kupas Whatever those things are We will destroy the mushroom kingdom Bowser is coming I'm not afraid I'll do anything for my brother We're going to save him Yes, fire! Ah, ah! Forte! You asked for it This is fun! Here we go! Attack! Let's get this Bello! Ah, c'è la versione doppiata Quella me la vedo Però non so se la metto nel video Hello Nintendo Direct I'm Aaron Horvath And I'm Michael Jelenic And we're honored to be the director Of the Super Mario Brothers movie We wanted to take a second To talk about that Rainbow Road Footage you just saw In Mario Kart Rainbow Road Isn't just beautiful to look at Is also one of the least Forgiving horses in the game As super fans of the Mario Universe We wanted to recreate That same sense of danger An epic scale on the big screen Un attimo le ruote Su quelle di Mario Kart 8 È tipo l'effetto gravitazionale Che figo Mi è piaciuto Anche la versione doppiata Non è per niente male Assolutamente non è male E bene Vi risparmio lo spettacolo di me In vestaglia Per la millesima direct di fila Detto questo Buonanotte E abbiamo finito con i trailer del film Ciao Ciao Ciao